Costantin Brancucci è uno scultore nato a Obita in Romania nel 1876 e morto a Parigi nel 1957 all'età di 81 anni. Nel 1952 ha ottenuto la cittadinanza francese. Dicevamo appunto che nasce a Obita, uno dei sette villaggi del comune di Pestisani, che vediamo qui indicato con una stellina rossa appunto nella regione dell'Oltenia, che è una delle regioni in cui è divisa la Romania, di cui abbiamo qui la cartina a destra. La casa in cui è nato è tipica dell'architettura contadina della regione dell'Oltenia ed è ora un museo. Allora era considerata una casa benestante perché contava tre stanze. Nella prima camera, il soggiorno, dormivano i genitori e i sette figli su un letto grandissimo, rivestito di una coperta e di tappeti. Qui un esempio dei tappeti tipici dell'Oltenia, con motivi geometrici molto belli e decorati. Poi c'era la cucina e una dispensa per gli alimenti. Costantin è il quinto figlio di Nicolae Brancucci, amministratore dei possedimenti del monastero di Tismana. La madre, sposata in seconda e nozza, è la giovane Maria de Aconescu. Fin alla primissima infanzia, Constantin ha rapporti difficili col padre e con i fratellasti. Frequenta fino alla quarta elementare, ma poi alla morte del padre, lui a nove anni, fugge da casa, si mantiene lavorando come pastore, apprendista, tintore, commesso in un negozio, ma viene sempre riportato a casa, poco tempo dopo, dalla madre disperata. Nell'88 e infine a 12 anni, si trasferisce a Craiova, capoluogo dell'Oltenia, e lavora come Garzoni. Nel tempo libero inizia a intagliare piccoli oggetti nel legno delle cassette da imballaggio, e con quel legno di poco valore riesce a costruire un violino funzionante, che riesce a impressionare i clienti del locale in cui lavora, che lo convincono quindi ad iscriversi alla scuola d'arte e mestieri di Craiova, dove viene ammesso dopo un esame. Già l'anno successivo vince una borsa di studio che gli consente di mantenersi, lasciando il lavoro da Garzoni. Il diplomato nel 1897-98 a Vienna, alla scuola d'arte e mestieri, con ottimi voti, nel 98, a 22 anni, decide di proseguire gli studi e iscriversi alla Scuola Nazionale di Belle Arti di Bucharest. Lo sabito nella capitale è quella di uno studente un po' boimien, ma determinato. Per integrare la borsa di studio che gli ha concessa da un istituto religioso, fa il lavapiatti, e passa il tempo libero cantando come tenore in una corale. L'istruzione della Scuola di Bucharest è improntata a uno stretto modello accademico, cioè studio della muscolatura umana e delle pose plastiche delle antiche sculture, e Brancusi si dedica a copiarle. Copia. A sinistra vediamo il busto del Viteglio Grimani, che risale al 100-150 d.C. Viteglio è l'ottavo imperatore di Roma. E questo gli vale una menzione di lode. Seguiranno ulteriori premi per un busto tratto dal gruppo ellenistico dell'Aocoonte e per il busto che vediamo al centro di Antino, che è una scultura romana in marmo del II secolo d.C., di questo bel giovane greco, amante dell'imperatore romano Adriano, morto giovane. E anche per questo Hermes del Belvedere, dei musei capitolini, che risale al II secolo d.C. Ma Brancusi è insoddissatto. Vuole abbandonare i modelli classici, con le loro pose enfatiche, l'esposizione dei muscoli, e non crede neppure all'idea romantica del tormento creativo, cioè dell'artista destinato a una vita che unisce genio e sregolatezza. Negli anni 1899-1004 lavora a Vienna e Monaco. Intanto di questi tempi si va formando uno scultore nuovo, Auguste Rodin. La sua fama si va diffondendo da Parigi a Bucharest. Le sue concezioni audaci entusiasmano le vanguardie, ma indignano gli accademici. Così, nel 1904, all'età di 28 anni, Brancusi coraggiosamente decide di partire per Parigi. Quasi 2000 chilometri separano Pestisani dalla capitale francese. Per finanziarsi il viaggio accetta una commessa delle autorità di Bucharest, la statua del generale medico Carlo Rdavila, di che è del 1903 e fa, e che a tutt'oggi resta l'unico suo monumento pubblico nella capitale romena. Ma il risultato, specie e il naso in generale, sembra, non piace e così non gli salgano il conto. Che fare? Decide di partire a Pedi per Vienna, dove soggiorna per un po' di tempo, lavorando per un immobiliere e approfittando di suo soggiorno per visitare i musei. E poi a Monaco, da dove, sei mesi dopo, parte per Parigi. Sorpreso da piogge torrenziali in Francia, si ammala di polmonite infettiva e fatica a riprendersi. Si convince così a scrivere a un amico, il quale gli paga il diglietto del treno per raggiungere, nel luglio 1904, la meta cui ogni giovane artista aspirava. Parigi, la capitale dell'arte, qui nella foto dell'inizio del Novecento, la zona di Montmartre, che quindi smette di essere un sogno per Brancugi e diventa una seconda casa. Trova alloggio presso la famiglia di un connazionale e stringe amicizia con diversi artisti rumeni. Parigi all'epoca grulicava di vita, di personaggi eccentrici, di artisti delle più note correnti, e Brancugi si avvicina all'ambiente dadaista, senza però derivi esplicitamente. Diviene amico di Duchamp e Menray, ma non mai in competizione con i colleghi. Nel 1905 entra nelle colze de Beaux-Arts in un laboratorio accademico, quello di Antonin Mercier, che traeva la sua opera dallo statuario del Rinascimento fiorentino. Lavora con lui per due anni, ma per guadagnarsi da vivere fa anche ritratti di alcuni compatrioti. Viene subito colpito dalle opere dei grandi scultori del tempo, Midardo Rosso, c'era una grande ritrospettiva a Parigi, e Auguste Rodin. Nel 1906 espone per la prima volta a Parigi al Salon d'Automne, preseduto da Rodin, tre opere, tra cui questo busto di un bambino. Qui il modo di presentare il bambino è delicato ed espressivo, con attenzione all'effetto di luce e ombra sulla superficie un po' tormentata. E tutto ciò rimanda a Medardo Rosso. Qui abbiamo due opere. A sinistra bambino malato e a destra questa etas aurea o madre figlio del 1887 in cera. Vedete la superficie è tormentata, impressionista, e si vede anche la volontà di resa psicologica dei soggetti ritratti, cioè la volontà di rappresentare le loro emozioni. E poi abbiamo, qui a destra, Tormento 2, o il supplizio del 1907, che è attualmente a Chicago, The Art Institute of Chicago. Il tema dell'infanzia sofferente era allora una scelta molto popolare per gli artisti che si presentavano alle mostre. Vediamo in quest'opera che l'artista decide di esprimere il dolore del bimbo, scolpendolo in una posa contorta, in cui per accentuare la centralità del movimento della spalla destra, lascia incompiuto il braccio ridotto a un noncherino. Brancucci si rifà qui al gruppo ellenistico dell'Auconte, vediamo a sinistra, che era stato scolpito da Tanadoro, Gesenandro e Polidoro nel 180-170 avanti Cristo e che lui aveva studiato all'Accademia. In particolare riprende la posa del capo, stretto sulla spalla destra, del giovane a destra, ma più in più, per evidenziare lo spasmo del dolore del bimbo, lo ritrae a bocca chiusa e lineamenti contratti. La mutilazione che Brancucci opera non poteva certo trovare l'approvazione del suo maestro d'accademia, famoso Mercier di cui parlavamo, che commenta, è facile fare sculture senza testa e senza braccia. Ma in realtà così facendo Brancucci viene pubblicamente lodato da Rodin, che in questo periodo crea opere autonome fatte esclusivamente con particolari o singole parti anatomiche di statue inizialmente ben più monumentali. Nel 1907 Brancucci va a Medon e frequenta lo studio di Rodin, che qui vediamo nella foto di una foto di Nadal, ma dopo un mese lo lascia perché dice sotto le grandi piante non cresce niente. Sempre nel 1907 è questo bronzo, titolato Preghiera, una statua alta 111,4 cm. Nel 1907 la vedova dell'avvocato Petre Stanescu gli commissiona in Romania un monumento funerario in onore del marito. Il contratto prevedeva una grande figura allegorica ai pieghi di un basamento di circa due metri che doveva sorreggere il busto del defunto. All'inizio Brancucci disegna una donna casciata su se stessa coperta da un drappo, le mani che coprono il viso, in un'angosciosa testimonianza di dolore. Progressivamente l'artista iniziò a concepire il soggetto in una maniera meno tradizionale. Toglie i drappi, delinea la figura femminile a tratti essenziali, busto eretto e poi il problema delle braccia però. Prima le disegna sollevate sopra la testa in un gesto di disperazione, poi disegna le mani congiunte a modo di preghiera, ma anche questa soluzione non gli piace. Più che pregare mi dava l'impressione che avesse freddo. Alla fine arriva questa soluzione, la statua di una giovane ragazza inginocchiata che esprime dignità e intensità di sentimento proprio attraverso uno stile scarno che rifiuta la rappresentazione naturalistica dei particolari per attrarre l'attenzione sull'essenzialità del gesto e delle forme. Comincia così la sua evoluzione verso forme semplificate, verso l'essenzialità. Proprio nel modo di trattare la materia e nel fatto che scelga di rappresentare solo alcune parti anatomiche, qui vedete il braccio è abbozzato e l'altro è portato avanti al petto in segno di contrizione, è anche riconoscibile l'influsso che dicevamo prima delle opere di Rodin, come ad esempio questo uomo che cammina. Questo è il bronzo di Rodin del 1907 che risulta da un assemblaggio di torso e gambe, la prima opera dell'87. Rodin tratta la materia cera o bronzo in un modo nuovo. Il risultato finale non è una superficie levigata, ma restano ben visibili i gesti del modellato e si creano così numerosi giochi di luce e di ombre e quindi nuovi volumi. E poi cosa manca qui evidentemente? Braccia e testa, perché tutta l'attenzione si concentra, si deve concentrare, sulle gambe e quindi sul movimento. Era quello che dicevamo prima quando dicevamo che Rodin selezionava solo alcune parti del corpo e altre non le rappresentava. Con il diploma ottenuto e il denaro guadagnato con la commissione del monumento funebre e preghiera migliora la situazione finanziaria dell'artista che qui vediamo ritratto in una foto del 1905. e questo gli consente di affittare nel 1907 un proprio studio a Parigi, il Rue Montparnasse 54, e lì resterà fino al 1916. Nessuna linea di confine tra studio e casa, così come non esisteva frontiera nell'esistenza di Brancucci tra vita e arte. Brancucci tralascia a questo punto il bronzo e inizia a interessarsi al lavoro della pietra. Diversi artisti in quegli anni utilizzavano la pietra calcarea, un materiale vile apparentemente poco adatto di un'opera d'arte che veniva intagliato e scolpito direttamente, eliminando la tradizione del modellato del bozzetto. Gli scultori tradizionali infatti ideavano modelli spesso plasmati in creta e affidavano ad artigiani il trasferimento in uno o più esemplari nel bronzo o nel marmo. Al contrario, Brancucci e modernisti, altri come André d'Erena, Medeo Modigliani, seguono il lavoro dall'inizio alla fine, cioè scelgono personalmente il blocco di pietra, scolpiscono a taglio diretto, rifiniscono il lavoro per proprio conto, anche negli aspetti che le generazioni precedenti consideravano più artigianali. La lavorazione della pietra poi era considerata anche una prova di abilità perché questo materiale non offre all'artista nessuna possibilità di tornare indietro, di correggere l'errore. Brancucci ama scolpire comunque anche materiali più resistenti, per esempio la quercia antica che è durissima, e appena viene a conoscenza dell'invenzione dell'acciaio inossidabile se ne fa inviare una lastra con tanto di macchina levigatrice Black & Decker. E arriviamo al famoso bacio in pietra alto 28 cm del 1907 e 8, lo vedete in due posizioni diverse, in due angolazioni diverse. Ecco, questa scultura riprende il tema ma contemporaneamente, vediamo subito, fa una vera e propria dichiarazione polemica di definitiva presa di distanza dal celebre bacio di Rodenna del 1887. Come vedete qui due giovani amanti sono raffigurati in un abbraccio plastico, i corpi intrecciati in un movimento a spirale. Cosa influenza Brancucci? Si vede subito influenzato da André Derène che nel 1907, sempre in pietra, scolpisce questa figura accovacciata. La figura è compatta rispetto alla forma del blocco originale e le parti anatomiche sono geometrizzate. E vediamo un po' più da vicino questo nostro bacio di Brancucci. Allora, Brancucci qui usa la tecnica scultorea del taglio diretto della pietra e cerca di sbozzare l'immagine direttamente nel blocco di pietra e rispetta la forma cubica del blocco stesso, come abbiamo visto a fatto del re. Divide in due parti speculari il blocco di pietra e scolpisce le due figure l'una di fronte all'altra. L'idea dell'abbraccio di questo atto d'onore è risolta attraverso il motivo delle braccia quasi sovrapposte che circondano le figure e sono l'unico elemento a rilievo su una superficie altrimenti quasi piatta. Il tutto a formare un volume chiuso con le linee simmetriche. I lineamenti sono appena abbozzati, gli occhi e le labbra sembrano fondersi tra di loro per accentuare l'idea di una fusione totale dei corpi. Il risultato ottenuto da Brancucci nella sua opera sembra rimandare anche a Gauguin. Quest'opera che si intitola Quando il narratore parla, 1892-93, in legno, quasi un simbolo fallico. Il bacio di Brancucci è una scultura, come abbiamo visto, essenziale, quasi primordiale per la sua semplicità. Lui dice, ho voluto fare una cosa che ricordasse l'amore non solo di una coppia, ma di tutte le coppie mai vissute sulla terra. Il gesto arcaico, semplice e puro abbozzato nella pietra. Il bacio è stato per me il cammino di Damasco. Presentato all'Armory Show a New York nel 1913, il bacio avrà l'onore di una poesia irriverente pubblicata in quei giorni su un quotidiano, che diceva, strinse la snella cubiforma in un rettangolare abbraccio e conclude, la baciò squadrato sulle lauree. Nel bacio Brancucci realizzò diverse sessioni, dalla prima che avevo visto nel 1907 a questa di 1916, più stilizzata e geometrica, alta 58,4 cm e 5 in pietra calcarea, che è un po' il Museo di Filadelfia. Siamo nel cimitero di Montparnasse e in cima alle stelle del monumento funebre per Tachiana Rakeskaya, su Cida 23 anni, 1910, Brancucci pone la sua scultura, bacio con gli amanti in piedi, alta 90 cm. Qui il modello di due busti allacciati si sviluppa nel motivo anche delle gambe intrecciate le une alle altre. Saltiamo al 2020, quando viene collocato nel parco di City Life a Milano, quest'opera di Wilfredo Prieto, un cubano, che si intitola Veso, bacio, e sono due massi erratici della damello che si siorano in un punto a simulare un bacio. Costante resta il materiale e la pietra, questa volta però non modificata dall'intervento dell'artista, ma inserita in un paesaggio antropizzato. Sempre nel 1907, questo testa di ragazza, probabilmente realizzata con intaglio diretto della pietra ancora prima del bacio. Lineamenti molto geometrici, si ispirano a una maschera fan del Gabon, di proprietà di Deren. Brancusi risulta affascinato dall'idea di accentuare le caratteristiche primitivi presenti nel modello africano, e quindi, a simmetria del volto, tratti somatici che sembrano quasi tali ferite sulla superficie, in una logica assolutamente antinaturalistica. produciamo anche un'opera di Modigliani, che forse è influenzato da Brancusi, in questa sua testa di ragazza dell'undici. Il volto però, vedete, è più allungato. Questo percorso di sperimentazione delle diverse fonti primitive, che affascinava in quegli anni artisti di avanguardia, come Picasso, Matisse de Rennes, culmina nel 1908 in questa scultura La saggezza della terra, in pietra saponaria alta 50,5 cm. Anche quest'opera fu scolpita direttamente in pietra e poi ligata. Il tema è sempre la figura femminile, sempre stilizzata, ma rispetto alla testa di ragazza, a cui il viso e il corpo della giovane sono scolpiti in forme più arrotondate. Le gambe e i piedi sono uniti, con le ginocchia strette vicino al busto, le braccia concerte sono strette torno al seno. L'energia di questo gesto dà una particolare intensità a questo insieme e in qualche modo contrasta anche con la ieraticità della viso e della posa. È nel corso del 1909 che comincia a svilupparsi una nuova fase della ricerca dello scultore lumeno, che ritorna sul tema della classicità e su quello dell'incompiutezza. Attingendo questa volta al mito, sono soggetti certamente già ampiamente trattati nella tradizione della scultura accademica dell'Ottocento. Tuttavia per Brancugi rappresentano anche la possibilità di allontanarsi dai temi quotidiani e quindi dal confronto con la realtà. Il mito permette infatti di suggerire un significato simbolico dell'opera. Tra il 1909 e il 15 l'opera di Brancugi vede ripetersi di temi tratti dal mito greco. Cioè egli crea sculture dedicate ad esempio a Narciso, Musa, Danaide, Prometeo. Cominciamo appunto con la Danaide, una scultura del 1908 in pietra alta 33 centimetri. Nella mitologia greca le Danaidi erano le 50 figlie del re Danau. Il fratello di questi, Egitto, per porre fine all'ottigio con lui, suggerì ai suoi 50 figli di chiedere in mogli le figlie del fratello. Ma le ragazze uccisero il loro sposo durante la prima notte di nozze e così, spedite per punizioni nell'Ade, furono condannate a riempire d'acqua per l'eternità delle brocche forate. Solo una, per monestra, si rifiutò di uccidere il marito e divenne simbolo di virtù e pietà e sarà la madre di Brancugi. Ecco il tema della Danaide che Brancugi affronta dunque per la prima volta un soggetto mitologico legato al classico, al mondo classico. Non sappiamo se in questa testa scolpita in pietra Brancugi avesse voluto rappresentare una delle sorelle condannate a suffizio eterno o la sola che salvò il marito. Rispetto ai precedenti esempi di incisione diretta nella pietra, questa Danaide mostra una considerevole evoluzione. La testa è resa attraverso un sapiente gioco di volumi che contrasta con la subnicità con cui era stato realizzato il capo della saggezza. L'anno precedente i lineamenti del viso tondo e la capigliatura in particolare non sono più semplicemente incisi nella pietra ma scolpiti a tutto tondo. Brancugi però mantiene la rubidezza del materiale quasi si trattasse di un reperto archeologico. Compare già, anche se solo accennato, il motivo del naso riunito ad archi delle sopracciglia a formare una struttura unica che contiene gli occhi, che sono più profondamente incisi e che poi sarà un motivo che sarà ancora più tardi, più evidente. Eccolo qui nelle versioni successive del XIII e poi ancora questa del XVIII è la Danaide in bronzo che è presente alla Ted Gallery a Londra. Questa scultura del 1911 in marmo lunga 17,8 cm si intitola Prometeo. Prometeo è un titano amico dell'umanità e del progresso che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini e subisce la punizione di Zeus che lo incatena una rupa ai confini del mondo per poi farlo sprofondare nel Tartaro, al centro della Terra. Prometeo divenne l'immagine della ribellione e di una sofferenza cosmica ed eterna. Come Brancugi realizza questa idea? Vediamo su una superficie oboidale pressoché liscia, la bocca al centro è semplicemente un piccolo taglio diagonale in linea col naso che emerge dalla pietra minimamente scavata e che continua nell'arcata delle sopracciglia. A stento si individuano piccole recchie e un tratto del collo. Riadattando modelli realizzati negli anni precedenti, Brancugi concepisce nel 1910 l'idea di una nuova soluzione formale per un tema che lo aveva già interessato per tutti i primi anni del secolo, cioè il tema del sonno. Qui vediamo una scultura 1908 intitolata Sonno. È la testa di un uomo addormentato, scompita nel marmo, adagiata sulla gota destra. Il volto emerge dalla pietra, tutto tondo. I solti dello scalpello sono profondi. Brancugi esegue quest'opera sviluppando il tema del non finito, secondo il gusto ornamentale della scultura simbolista. Una curiosità? Ecco l'opera riprodotta in un fracobollo commemorativo del 1967 della Repubblica Romena a dieci anni dalla sua morte. E ora abbiamo la serie delle muse addormentate. Chi sono le muse? Sono nove idee greche potetrici delle arti, poesia, lirica, epica, d'amore, eccetera, danza e delle scienze. Qui abbiamo una musa addormentata in marmo del 1909. Brancugi rompe con la tradizione della scultura ottocentesca e crea questa scultura che è una testa di forma ovoidale, adagiata su un lato, distaccata dal corpo, isolata e in una forma conchiusa. Diventa così un oggetto a sestante, monolitico, puro volume, con i lineamenti del viso appena bozzati, ridotti in modo che l'opera abbia curve, lucide e pure, sempre più eterea e universale. Il tutto dà un senso di profonda serenità, purezza, dolcezza. Non si tratta solo del ritratto di una donna addormentata, ma di una riflessione sul sonno come momento magico nel quale l'essere umano è visto ma non può vedere il suo osservatore. Brancugi fece inizialmente una testa in marmo, da cui poi ricavò il gesso, che gli servì per i sei bronzi successivi, anche lucidati e specchianti. Tra il 1910 e il 1925 ne fa 19 esemplari. Qui vediamo due opere in bronzo del 1910. Riprendiamo quella di destra della foto precedente. Questa è un 26 centimetri ed è stata venduta in nasta da Cristis nel 2017 per 57 milioni di dollari circa. E qui c'è una musa addormentata in marmo, sempre del 1910. Dopo il primitivismo dei due anni precedenti, che era stato così violento, ora Brancugi pare intravedere un nuovo obiettivo, cioè quello di mettere a punto un linguaggio astratto ed eterno. Si è forse ricordato di un lavoro precedente, creato da Rodin, ecco qui il pensiero del 1893-95, che al Museo d'Orsay a Parigi, che rappresenta una testa femminile scolpita in un blocco di marmo di grandi dimensioni. In viso il collo emergono sopra la massa squadrata del materiale, che l'artista ha voluto lasciare allo stato grezzo. Quello spazio dove forse essere riempito dalla presentazione del corpo oppure semplicemente eliminato. Lasciando invece il blocco incompiuto, a sorreggerla, l'opera si allontana dal modello del ritroppo naturalistico, assume un valore simbolico, quello della testa privata del corpo, sede della mente, assorta nei propri pensieri. Ciò che colpisce in Brancugi è la presenza di molte sculture, abbiamo visto, che sono praticamente teste mozze. Da dove può aver derivato questa immagine? Vediamo qua il monastero di Tismana o un affresco. La tradizione della decapitazione nell'area dei Carpazzi è presente fin dalla prestoria. Corrite funebri di smembramento legati al culto dei morti, degli antenati e anche a pratiche di culto sacrificali. E poi nel Medioevo anche quella decapitazione dei martiri, come appunto vediamo in questo affresco. Ecco il ritratto della baronessa R.F., testa di donna, si intitola, che è un'opera perduta di Brancugi e che è appunto il ritratto della baronessa René Fréchon a cui lui era stato presentato. Come vediamo gli occhi sono asimmetrici, definiti, quasi accecati da tratti mutali. La capigliatura è resa come una massa ruvida che contrasta con il modo di raccontare più raffinato e levigato della superficie della pelle. A che cosa si rifà Brancugi? Probabilmente, forse, ha questa testa di Buddha del secondo terzo secolo. È un Buddha del Gandhara, l'attuale Pakistan. È arte indo-elemistica, nel senso che il soggetto, cioè il Buddha con il chakra in mezzo alla fronte, le orecchie allungate, gli occhi a mandorle, sono di origine indiana, mentre il naso, sorriso, capelli ondulati, sono canoni greci portati in India con la conquista del remade Cegone Alessandro Magno nel IV secolo a.C. Una curiosità, se voi andate al Museo archeologico di Milano, troverete una sezione proprio dedicata all'arte del Gandhara, con esposizioni anche di statue di Buddha e delle mistiche. Soffermiamoci un attimo sulla forma voide, che è prevalente nelle opere di Brancugi. A quale fonte probabilmente si rifà per questi ovali? Brancugi è un romeno ortodosso e quindi si rifà alla tradizione millenaria dell'arte bizantina e medioevale dell'Econe, qui vediamo un Cristo Pantocratore del 1363, che presentano poche forme sempre ripetute, seppur leggermente diverse, proprio come le sculture di Brancugi, dove il modello prevalente è l'ovale dei volti di Cristo, della madre di Dio e della mandorla che li contiene. Ecco Musa del 1912, scultura alta 44,5 cm senza il basamento, in marmo. Brancugi espose una prima versione in jazz di quest'opera all'Armory Show di New York nel 1913. Si tratta di un lavoro realizzato variando il modello della musa addormentata di due anni prima. Il viso mantiene quel profilo accuminato, le orbite cancellate, che avevano allora reso l'idea del sonno. Il capo della donna è sorretto dalla mano sinistra, di cui Brancugi rappresenta anche una parte del braccio, come Mademoiselle Pogany, ed è spostato completamente su un lato rispetto al collo snodato che si riparte dal viso, inclinato e collegato al petto, a forma quasi di semicerchio che sorregge l'intera opera. I tre elementi si sviluppano uno sull'altro. Ma tu non sei la mia musa leggera che sorride e che non ama che Dio. Tu sei mortale, vile, piena di desideri, terrestre, come me, dice Brancugi. Lui poi sostiene. La semplicità non è un fine dell'arte, ma si arriva alla semplicità malgrado se stessi, avvicinandosi al senso reale delle cose. La semplicità è la complessità stessa. Folli sono quelli che considerano le mie sculture astratte, ciò che essi credono essere astratto e quanto vi è di più reale l'essenza dei fenomeni. Notiamo che i soggetti e forme in realtà si ripropongono continuamente e qualcuno ai tempi glielo fece osservare. Nel 1917 scrive a un amico collezionista che le nuove versioni di opere precedenti non vanno considerate come semplici copie poiché sono concepite in tutt'altro modo e se le ho riprese, dice, non era per farle diversamente ma per approfondire una mia ricerca. Nel 1912 Brancucci conosce e poi diviene amico di Marcel Duchamp e si deve proprio all'artista francese che si sarebbe trasserito a New York all'indomani dello scoppio della prima guerra mondiale la fortuna di Brancucci in America. A partire dal 13 Brancucci diventa famoso anche negli Stati Uniti perché in quell'anno volo al troceo limitato da Duchamp portando con sé cinque sculture da esporre all'Armory Show di New York. Il pubblico americano si trova di fronte all'immensa distesa di opere, molte delle quali innovative e ciò all'impatto di una bomba. I giornali iniziano una campagna di denigrazione che continuerà per mesi lanciandosi in accuse alternate a Lazzi. Accostata a dipinti di Picasso e di Duchamp, Brancucci espone il bacio, una musa, torso, musa addormentata e mademoiselle Pogany. Ecco qua la signorina Pogany in una foto a sinistra e nella scultura in bronzo ovviamente a destra. Margin Pogany era una sua amica, una testa d'arte, dal viso tondo, grandi occhi, folte e sopracciglia. Il bronzo del XIII deriva da un gesto fatto su una statua in mano e legato del XII. Come già il nudo che scende le scale di Duchamp, l'opera fu soggetta di scherno da parte di stampa e visitatori. Era incomprensibile, la statua aveva un nome, cioè doveva rappresentare la testa di una donna, ma, dissero, era un uovo. I capelli non erano delineati ma una superficie brunita che la faceva apparire calda, gli occhi non scolpiti ma delineati tramite una linea di contorno che la faceva apparire cieca. Brancucci ne farà 17 versioni in bronzo e poi anche altri in altro materiale tra il XIII e il XIII. Questa è una versione in marmo di retro e di profilo, probabilmente risalenti anche al XIII. La vediamo ancora la signorina Pogani II nel XX. E ancora signorina Pogani III e un'altra, in cui cambia appunto il materiale utilizzato e poi vedete anche il numero dei basamenti, la forma e anche il materiale dei basamenti. In altre parole, Brancucci parte da ritrarre una persona amica che conosce bene e poi nelle versioni successive se ne distacca sempre più verso una purezza espressiva, come dire che il volto umano iniziale vale come un blocco di pietra o altro da cui poi allontanarsi. Possiamo osservare qui come cambi la rappresentazione soprattutto di braccia e occhi nel passaggio dalle versioni degli anni dieci, vedete in alto a destra poi sotto e sotto in basso a sinistra, via via a quelle degli anni 30, 20-30 nella parte centrale. Solo quella in alto a sinistra non è datata, ma in base a quanto abbiamo detto prima, si presume risalga agli anni 30 proprio perché è molto simile a quella a fianco, campi materiali. Anche qui da dove può aver tratto ispirazione per la forma del viso? Forse, sempre nella religiosità bizantina ottodossa, due icone di teofane in greco, a sinistra madre di dio della cattedrale dell'annunciazione del crembino e a destra madre di dio del donna del fine XIV secolo, medesima inclinazione del viso anche da notarsi. Ma chi aveva finanziato questo Armory Show del XIII a New York, questa grande mostra? Tra i vari finanziatori c'era anche questo John Quinn, nato nel 1870 e morto poi nel 24, un avvocato che diventerà anche il più grande stimatore mecenato di Brancugi. All'indomani dell'Armory Show, Quinn inizia una fitta corrispondenza e un'amicizia con Brancugi, che si interromperà soltanto in occasione della sua morte undici anni dopo. Quindi compra almeno una ventina di opere. Per restare in tema vediamo anche un po' il rapporto tra Brancugi e il mercato. Lui aveva inviato quasi ogni anno diverse opere a Bucarest, da dove venivano acquistate da collezionisti locali e in cui nei casi dallo Stato. Il mercato dell'arte di Parigi invece stentava a riconoscere l'artista, forse perché lui rifiutava anche di legarsi in esclusiva a una galleria o un mercante, come avevano fatto già da tempo i maggiori interpreti del cubismo, per esempio Picasso e Brancugi. Brancugi invece presentava la propria produzione ai Salon, riceveva solo molto raramente la visita di alcuni selezionati mecenati che, come nel caso della baronessa René Franchon, gli commissionavano un ritratto. Questa situazione cambia gradualmente con il crescente sviluppo negli Stati Uniti di una nuova generazione di collezionisti di arte moderna che guardano a Parigi e non temono di acquistare opere che la maggior parte del pubblico giudica bizzarre, riferenti o insensate. Ecco qui una foto del 1931 a Villefranche Hossein che vede Brancugi a sinistra al centro Duchamp, l'amico Duchamp, e a destra Mary Reynolds, la compagna di Duchamp. Infatti dicevamo che Duchamp stesso con la sua influenza presso i collezionisti americani per esempio i coniugi Arensberg, giocherà, gioca un ruolo importante per la fortuna di Brancugi negli Stati Uniti. Un altro collezionista importante è Eduard Steichen, che qui vediamo un autoritratto del 1898. E' un fotografo americano di origine lussemburghese che si trasferisce nel 1901 a Parigi e realizza numerose fotografie dell'opera di Brancugi che iniziano a circolare tra il pubblico degli appassionati d'arte e vanno a costituire un mercato parallelo a quello delle opere vere e proprie. Nel 1907 Brancugi si trasferisce nell'atelier di Montparnasse a due passi da Steichen e lì rimarrà fino al 16. e Steichen acquista alcune delle sue opere tra cui una maiastra di cui poi avremo occasione di parlare del 1911 e una colonna senza fine di sette metri nel 1920. Nel 1914 sotto l'influenza dell'amico appunto Brancugi sostiene di non essere più soddisfatto del fotografo d'arte che aveva fino allora e inizia a fotografare da solo le proprie opere. Grazie. 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 Grazie.